Musica Alle 18 in punto del giorno di San Valentino si è accesa l'installazione Cuore sulla collina di Sant'Elmo segnando il culmine della Notte degli Innamorati, una giornata di piccole occasioni culturali collegate dal tema dell'Eros e disseminate fra i musei e i luoghi d'arte della città in alcuni casi eccezionalmente aperti fino a mezzanotte. Questi 350 cubi che in maniera anamorfica visti da un lato, voglio dire che sono soltanto dei cubi appesi visti da una determinata angolazione diventano un cuore pulsante. La scuola di nuove tecnologie dell'arte grazie all'accademia intera che è coinvolta in questa iniziativa è da anni che lavora su queste ipotesi, sul pensare che le relazioni siano il sistema possibile con cui improntare quello che è una nuova metodologia dell'arte, voglio dire. Quindi non più la mostra, lo spazio isolato soltanto, ma la partecipazione collettiva. Noi crediamo molto in questa modalità lavorativa dove non ci sono autori ma c'è un processo creativo costante fatto di prove, errori e un continuo feedback tra diverse professionalità. Anche questa installazione è frutto di un lavoro di diversi mesi, una sperimentazione che ha avuto diversi step una delle quali nella scorsa primavera in una importante fiera d'arte a Sorrento e che adesso invece ha adeguatamente ampliata su una scala cittadina, una scala urbana. Realizzato da allievi e docenti della Scuola di Nuove Tecnologie dell'Arte col patrocinio morale del Comune di Napoli, il cuore luminoso pulsante resterà acceso fino al 21 marzo. Un progetto collettivo deve poter vivere e comunicare con la città quindi diventarne occasione di stimolo, di riflessione, di partecipazione. I giovani dell'Accademia in qualche modo attraverso questa operazione artistica fanno sì una provocazione, una provocazione artistica ma soprattutto fanno un intervento di natura civile.